Pizzacono, pizzacono, pizzacono Vabbè, ma cos'era? Usavo il microfono Avevo 2000 iscritti, quante domande potevano arrivare? Uaaaaah! Ancora, madonna, ma che spettimo Ma niente Anything di alto livello Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video Il nuovo video speciale 25.000 iscritti, siii Che cosa fare per questo speciale 25.000? Un video reazione dei 10 migliori video di Sebastiano Serafini Iniziamo subito Questo è il primo video del canale No, clickbait Ma papi sia che capelli aveva Avevo gli occhi Nel primo video avevo gli occhi La prima gnocca di bambù del canale, ragazzi Proprio un video di merda, ragazzi Era bruttissimo Perché è entrato in classifica Che ansia E adesso la classifica delle gnocche di bambù Gnocche di bambù con l'accento sulla U Secondo me, parlare di gnocca è sempre un argomento piacevole e bello Che bei capelli aerodinamici Tra l'altro, guarda anche come me l'ha tradotto Michela dei sottotitoli Bamboo cheeks Facciamo due premisse Premisse Abbiamo cercato di prendere Solo i giapponesi Perché siamo razzisti, diciamo Mezzo sangue, via babbana Io avevo fatto anche la classifica Della gnocca di bambù Singin' Edition Preparatevi perché oggi si parla Della gnocca di bambù Singin' Edition Ciao a tutti ragazzi E benvenuti Dovvero Tra l'altro poi guarda che pose che avevo Comunque proseguiamo perché la classifica ancora Ci riserverà tante sorprese e tante gioie Esatto Ma cos'è sto entri di un minuto Parla di quello che devi parlare Seba Ma cosa dico? Avevo duemila iscritti Quante domande potevano arrivare Vabbè Io già vi gestivo No? Perché io sapete Io nell'assemblea di stesuto Facevo sempre il presidente Perché organizzavo bene Ma basta! Oh, siamo arrivati a un minuto e sedice Ancora non ho detto di cosa parlo Ero imbarazzatissimo qua Per parlare di quello che devo parlare Perché comunque io stavo per dire Oggi parliamo di donne nude Adesso se ne vanno Ma io vorrei parlare oggi dei Il gringio Devi far ridere E poi dopo per tutto il resto del video Lo dico tipo Con la mia solita voce Che spacca timpani Tantro Che qualità audio eh Ancora eh Proprio tiriamocela ragazzi Siamo già in 2.000 eh Con questo video Arriveremo a 2.500 Anche di più Anche di più Questo è stato il video Che mi ha permesso di arrivare a 24.000 Esatto Leggiamo un po' i commenti Ma guarda mi fa triste Vedere gente che commentava Adesso non commenta più Ricominciate a commentare ragazzi Mi ha scritto praticamente Oh mio Dio Non ce l'ha fatto Sei così Attractive You will be Really annoying And cookie For the first time Ma perché? Vabbè il gringio rimane Ma si chiama William William Oh mio Dio Vabbè questo canale è super EGVT Quindi va benissimo Ciao Sebastiano Seguo sempre i tuoi video Anche se non mi stai molto simpatico Abbiamo speso fin troppo tempo Andiamo avanti Ragazzi Al settimo posto Fujikyu Hailand Il palco dei divertimenti Che sorvei Che dire il monte E qui Ma che? E' corsa Ma era bellissimo questo video Ma perché questa intro? Ma perché? La mitica Fujiyama La mitica Fujiyama Vediamo cosa dico Uh Caduta a 121 gradi Wow Tsunami Wow Ancora Madonna Ma che effettimo Editing di alto livello Molto Tra l'altro c'è tornato in sottofondo Grazie per aver visto questo video Se vi è piaciuto iscrivetevi Ci vediamo domani alle 2 Il prossimo lo va leggere tu Tirò la busta Pizzacono Vediamolo un po' insieme E vediamo il pezzo club Andiamo a vedere il pezzo della pizzacono Ah ok Vediamo un po' qua La pizzacono Ma io continuavo tutto il giorno No perché voi avete visto solo un pezzo Ma in realtà io tutto il video che ti è arrivato Pizzacono 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 Che sapete quando dico una cosa la dico in loop Tranquilli ci arriviamo Ci arriviamo Ai Vabbè lo sapete già Che capelli avevo Tra l'altro qualcuno ha commentato anche che capelli bellissimi Ma E ti fumi Ecco La panta di Soul Mafia era buona Con questa andiamo avanti Guardate che meraviglia Guardate che riprese Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui Guardate che bello Spettacolo Wow che meraviglia Guardate che riprese del cibo Wow Wow Si vede mai che mangio Si vede mai che bevo Si vede mai che vado in spiaggia Guardate poi la luce Come a tema Ma che è sta roba Sarà un bel video questo Cioè a me piace Se vi piacciono i viaggi Non sono i video Wow mi tuffo qua Faccio questo qua È un video rilassante Così te lo guardi Adatto a tutti A bambini Anche adulti E poi anche i feticisti per i piedi Guardate qua abbiamo lasciato Bello lungo Bene Andiamo avanti con la classifica Una nuova professione Che secondo me Molti di voi potrebbero fare Non si tratta Non si tratta Ma com'era Ma com'era Ma com'era Ma com'era Come eri sporto Ero molto No ma ero molto spontaneo In realtà scoperto Che lo possono fare anche gli uomini Non è proprio venuto fuori Non sapevo Scandal Cos'era Usavo il microfono Abbiamo appena ricaricato la macchina fotografica Abbiamo fatto la live più cringy della storia I peggiori momenti della nostra live Come qualità è proprio cringy 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 Ragazzi l'unboxing del bacio perugina Ciao Maria io esco Ma io ho fatto vedere la porta Che questa tira sulla di Uge Ciao Maria io Questa non è cringy Esatto Ho fatto sta lyrics Reborn again inside of my eyes Quindi rinasci dentro i miei occhi Quali? Quali occhi ragazzi? Quali? Dov'è sto a livello? Dai Cento 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 104 107 Bene quindi ragazzi Siccome queste live non le tengo neanche online 24 ore Se volete vedere i momenti peggiori Perché c'era ancora di peggio Iscrivetevi al mio Instagram Che così non vi perderete nessuno di questi momenti tremendi Comunque ragazzi Adesso siamo sul podio Perché stiamo per dirvi la terza posizione Portatemi la busta Ecco a lei Grazie La terza posizione è Reazione alla musica di Serapini Quindi questo sarà il video Del video del video Praticamente Bene Partiamo subito Ecco guarda inizio uguale Inizio uguale Inizio uguale Inizio uguale No questo Inizio uguale proprio al video originale Che t-shirt di bello Qual è la vostra canzone preferita? Scrivetecelo qui 3, 2, 1 Via Che scena d'azione Un fumetto ti ha cambiato la vita C'erano le riprese col drone E vedevi proprio i pezzi Dove il ghiaccio non era ghiacciato Quindi avevo rischiato grosso Andiamo avanti? Il prossimo video è casa mia Cioè casa sua E' stato un peccato Tra l'altro Oh ragazzi Gli occhi di Serapini Attenzione Che fino avrò fatto questi pantaloni Li ho persi da qualche parte Cosa sono? No Se mi finisce la birra Se mi finisce la birra Sack Mi finisce l'acqua Prendo qua mi arriva l'acqua Se per esempio mi finisce il tonno Emergenza tonno Non ci sa mai E' covolo Ti fa il tonno Eh esatto Che riprese dinamiche che avevo in quel tempo vero? Ma non avevo lo stabilizzatore o si? No Anche sempre no No si Si? Si perché stavo usando la fotocamera di Mary con lo stabilizzatore Ah si Vedete però io non mi faccio condizionare da uno stabilizzatore Tanto salutiamo Mary di Wild Up Earth Ciao Mi piace molto questo momento Un momento del rescio Sebastiano sarà finito Sì Dun dun Wow 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 Non sa neanche apriarla Scorrevole Ecco qui Quanto spazio uno può correre Uno può correre Quanto è grande questo appartamento Questa nuova per la mano Sta facendo Sta ballando higher nel video di prima Ve lo ricordate? Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store E se vi va seguitelo anche su Instagram Posto un sacco di cose interessanti Noz Noz Sous-titrage ST' 501